Sì, guarda il canale del dramma E' vero, è vero Ciao Lea, volevo dirti che Grend ti vuole veramente bene E' vero, è vero Grazie VK, grazie Irkesh, grazie Marco E' vero, è vero Lea Lo sai che mi sono praticamente affezionato Affezionato a te Vale lo stesso? Per te Vedremo Ti conosco da poco, io tipo spesso Diciamo problemi un po' di Come posso dire A parte vabbè relazionarmi con gli altri Anche di fiducia Quindi boh No perché tante volte L'hai preso nel culo Sì, però sì è quello Ok Tante volte mi hai dato troppa fiducia E poi sbang Tu invece bro l'hai preso nel culo Nel senso sì Nel senso ovviamente non anale Nel senso metaforico del termine Sì o no? Sì Ah sì? Minchia tutti qua Faticamente sì Eh o? In realtà è stato anche dal Ciao Ah minchia c'è un inculatore seriale Grandesino minore Drago Freebooter 2 Ti seguo Bomba comunque Grazie Del supporto Parto Parto